Nuovo successo esterno per l'Amen, scuola basketarezzo che allunga la propria striscia positiva vincendo sul campo del basketball club Lucca per 76-71. Gli Amaranto devono fare a meno di coach evangelistico stretto a casa dall'influenza e con giommetti non al meglio per un problema fisico. A questa premessa si aggiunge la determinazione di Lucca che parte subito forte mettendo in difficoltà l'Amen. Il primo quarto si chiude così sul 23-15 per Lucca. La squadra di coach Liberto recupera punto su punto firmando il sorpasso grazie ad una tripla del capitano Castelli che vale il 42-40 prima che un libero di Pierini fissi il punteggio dell'intervallo 41-42. Al rientro dagli spogliatoi la partita rimane in equilibrio. Negli ultimi 10 minuti si abbassano le percentuali di realizzazione. Arezzo rimane oltre 4 minuti senza segnare così Lucca ne approfitta e rimette la testa avanti. E ancora Vaselovinovic dalla lunga distanza a firmare un mini allungo per la SBA che a tre minuti dalla fine si guadagna a sette lunghezze di vantaggio 72-65. Amaranto però sbaglia nei colpi del KO. Tempestini e Bulgarassi da tre punti riportano a meno uno la squadra di casa. A questo punto la difesa è a retina tenere senza canestro gli avversari con Rossi che dalla lunetta non sbaglia liberi sul fallo sistemico avversario. Alla fine così l'Amen può festeggiare 76-71 un successo che allunga il momento positivo degli Amaranto che mercoledì saranno chiamati di nuovo in campo per il turno infrasettimanale della non aggiornata di andata quando al Palace Porta Estra arriverà la Senergy Valdarno.